Giulia, voglio farvi vedere un video che fa un bellissimo Iniziate a disegnare la nostra gomma, io ho fatto quella lì Bella lì E' colorita 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Qua c'è la distesa Qua dopo ci sono le tante Sono le tante Se volete Senti, facciamo un po' di Tu li attivi, io salto sulla porta e li metto capace Ma se l'hanno ancora più indemoniati Non pensarci funzionerà Tira fuori la tua abilità Ui Coraggio, ce la puoi fare Che cosa fa uscire il tuo lato peggiore Senti, facciamo un po' di Senti, facciamo un po' di Col bianco, questo non può piacere tanto Questo lo coloro e tre ecco ho voluto colorare così poi coloriamo qua oppure il guano lo facciamo l'arba facciamo l'arba facciamo non si valla neanche schiorata dai tieni tutto ecco di qua so che oggi è il tuo giorno libero e vorrei che posassi per un ritratto no ti aprirò oggi sta con me ma lui è l'unica della famiglia che ancora non ce l'ha e devo consegnare un quadro al più presto e chi penserà alla mia bua tic tac tic tac ho un'idea sapresti fare entrambe le cose insieme non posso guardare ecco Maria cerca di non muoverti altrimenti verrà fuori un po' adesso lo coloro ecco ho cambiato il colore dell'altro dell'altro perché mi piace adesso non si vede qua dovete mettere non tanto perché dopo andrò a fare un altro stamponato faccio vedere qua uno due tre ecco qua mi viene tamponato tamponato e aggiungiamo il colore qua così così ecco 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 l'ho finito così sì dic silumpo ok ecco per faro tu non mi sosterresti mai in quel modo come puoi dirlo lo farei senza dubbio non ce n'è mai stata l'occasione finora questo venerdì c'è il mega raduno di science fiction il vincitore del concorso di cosplay conoscerà la giudice capitana calisto vieni anche tu, vieni anche tu, vieni anche tu potrei cadascere la mia vera? no, un momento, no che non posso i mega di cosplay sono decisamente il mio pane ma devo riuscire a creare un costume per venerdì se solo qualcuno mi desse una mano e faccio un po' 1, 2, 3, 3 questo è il disegno finito non si vedono, si si vedono ho fatto delle macchie e ho colorato la magia queste le macchie le fatte io eee, parà? e dopo ve lo faccio vedere quando sarà asciutto e comunque voglio vedere e voglio vedere come vengono i vostri disegni quindi fatevi vedere come vengono